bravo dai ragazzi dai dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi però erano sotto di 10 erano sotto di 10 cazzo teo no però è vero noi non abbiamo la bandierina per cui almeno non cambia niente no abbiamo il possesso siamo sotto di 4 hanno recuperato tutto negli ultimi 2 minuti dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai 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 dai